Raga benvenuti finalmente in Fortnite Lego E' appena uscita questa nuovissima modalità veramente assurda che andremo a provare insieme quest'oggi Ma prima mi raccomando raga avete 5 secondi per lasciare like al video e iscrivervi al canale Se anche voi adorate alla follia questa nuova modalità Quindi veloci 5, 4, 3, 2, 1 Tempo scaduto andiamola a provare Ok perfetto raga siamo nella lobby di battaglia reale Ma è arrivato il momento di andare a selezionare Fortnite Lego E guardate qua subito la mia skin si trasforma Non ci credo il mio mid è diventato Lego e può addirittura ballare No 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 qua potrei veramente impazzire Andiamo a vedere un attimo l'armadietto E tutte quante le mie skin sono state convertite a Lego raga Guardate tutte quante le skin No 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 è veramente una figata guardate anche la banalita quanto è fatta bene Ok non ci resta che andare a creare il nostro mondo Facciamo seleziona mondo sta caricando Vediamo un po' cosa dobbiamo fare Ok crea un nuovo mondo proviamo raga addirittura ci sono i mondi condivisi Oh mio dio crea raga slot nuovo mondo non ci interessa Dobbiamo creare sopravvivenza Inizia non modifico niente raga voglio entrare subitissimo Ok sta facendo il matchmaking raga dovrebbe remetterci poco Perché ovviamente in partita ci sono soltanto io Mi rimetto però la skin di mida ragazzi Che sono partito con mida mi rimetto mida Siamo ufficialmente in caricamento Oh mio dio raga non ci credo Fatemi sapere nei commenti raga scrivetelo tutti Se volete che faccio una live in cui gioco a Fortnite Lego Mi raccomando scrivete nei commenti adesso se ci volete una live Ovviamente nei prossimi giorni Ok eccoci qua raga Oh mio dio No no aspettate un attimo Che cavolo Ok perché c'è il bombarolo lucente Ok parla con bombarolo lucente Ok mi dice praticamente Ok ci sono dei dialoghi da fare con bombarolo lucente Ok tu sei codice nax con 2x Beh sì ovviamente codice nax con 2x nello shop mi raccomando Ok vabbè ci sono effettivamente delle cose da fare Quindi dobbiamo prepararci praticamente a sopravvivere Quindi ok posso praticamente Ok correre raga non si può sprintare C'è la corsa normale Ok iniziamo raga Ok possiamo dare i pugni Ok proviamo raga tipo ad andare a spaccare una pietra Vediamo se funziona Ah raccogli granito Oddio 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 che cavolo è questo No 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 tu non hai capito con chi hai a che fare Hai a che fare con nax e ora nax ti distruggerà Perfetto abbiamo killato un ragno E ci siamo presi effettivamente della seta No raga è bellissimo È praticamente un nuovo minecraft Però di fornite con lego Cioè una cosa del genere raga è veramente qualcosa di assurdo Prendiamoci altra seta Ma ora voglio vedere cosa succede se prendo della legna Ok raccogli legno perfetto abbiamo preso il legno E possiamo costruire effettivamente un falò come ci dice qua Ci servono 3 di legno perfetto Ok non mi fa rompere l'albero Non so se è perché non si può rompere O perché magari serve un attrezzo Tipo un'ascia Tipo un piccone una cosa di questo tipo Intanto raccogliamo tutto quanto Quello che ci fa raccogliere Abbiamo preso letteralmente tutto quanto E abbiamo anche delle zucche nell'inventario Che probabilmente mi posso andare a mangiare Esatto Mi posso mangiare Eeeh vabbè raga però i ragni hanno rotto Oddio raga ma il bombarolo lucente c'è un piccone gigante No allora così non va bene bombarolo Me lo dovresti dare a me il piccone che devo imparare a giocare Vabbè comunque ok mi ha detto praticamente Che mi augura buona fortuna Comunque vediamo effettivamente cosa fare Beh ci penso io ovviamente raga Ho già visto come si fa il falò Andiamola a costruire e piazziamolo Ah no ci manca uno di legno perfetto Dobbiamo andarci a farmare un pezzetto di legno Perfetto E adesso possiamo piazzare il falò Lo mettiamo qua così mi posso credo Curare o comunque fare qualcosa Non ho ben capito a cosa serve Ok perfetto ci dice che ci terrà al caldo Quando farà freddo quindi probabilmente Servirà a sopravvivere la notte Raga vi giuro per il momento mi sta piacendo tantissimo Prendiamo tutto quanto quello che c'è in terra Il granito perfetto Ma io voglio tipo esplorare le caverne raga Non voglio stare qua al falò Ma si può tipo costruire in qualche modo? Ovviamente con cui c'è la costruzione Oh mio dio cosa c'è la No 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 fermi tutti Che cos'è quella roba? Cos'è un lupo? No no io non voglio avere a che fare con il lupo Mi dispiace raga ma non ho assolutamente niente per fightare un lupo Bensì voglio provare a craftarmi Ok un banco da lavoro questo è Ok banco da creazione Mi servono altri tre di legno Ok ho preso finalmente i materiali per costruire un banco da lavoro Andiamolo a mettere là dove ho messo il falò E vediamo effettivamente cosa potremmo fare Magari le spade, le armature, i picconi per andare in miniera Vediamo un po' Piazziamo subito il banco da lavoro qua Ok usa banco da creazione Perfetto ascia probabilmente per la legna Per tagliare gli alberi e il piccone Beh per il momento mi creo un'ascia Così mi posso fare veramente un botto di legno in più E eccola qua l'abbiamo creata Bellissima raga Ma se tipo provo a fightare il lupo con un'ascia Secondo voi è una buona idea? Non ne ho idea anche perché è sparito Ma ci sono dei polli quindi Del cibo Beh ovviamente lo andremo a prendere raga Meno male che siamo in un gioco perché queste cose non vanno fatte Ma guardate quante OP Guardate quante OP l'ascia raga Gli ho fatto un botto di danno Vieni qua Vieni qua dammi tutto il tuo cibo Bene 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 Abbiamo praticamente della carne Che ci servirà chiaramente per quando avremo fame E poi vediamo di tagliare un albero raga Vediamo se funziona Oddio funziona Bellissimo raga Spacchiamo l'albero Ok come sto morendo di fame No 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 Oddio No 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 Fermi 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 Devo mangiare ok Devo mangiare raga Mi sta dicendo che sto morendo di fame Non so da dove si vede Ok da in alto a sinistra probabilmente Ok mangiamoci anche praticamente questa zucca E siamo a posto credo Ci siamo pure fullati la vita Abbiamo tre curicini E adesso vediamo un po' di prendere altro cibo Perché non è mai poco raga Cioè volevo dire Non è mai troppo il cibo Dobbiamo sempre prenderne tantissimo Abbiamo anche delle mucche qua davanti Prendiamoci anche le mucche E poi craftiamo raga Un piccone per andare in miniera No raga Si è scomposta tutta quanta il leco È veramente una figata Ok ho alzato un po' la grafica raga Così si vede veramente molto meglio E qua ci abbiamo dei lamponi Ok così abbiamo anche effettivamente Dei lamponi da mangiarci Quando avremo fame Perfetto Abbiamo fatto più o meno tutto quanto Quello che ci richiede il gioco all'inizio Però abbiamo ancora fame E che cavolo E basta Ho sempre fame Ho mangiato adesso Ho già fame Che cavolo vuol dire questa roba Ok ho fame Vabbè io mi mangio tutta quanta La carne che ho trovato Adesso non credo di avere ancora fame Perfetto ci siamo Stiamo vicino al falò Come sta effettivamente La nostra bombarola lucente E abbiamo effettivamente Già l'ascia mezza distrutta Guardate raga La vita dell'ascia è già distrutta Beh probabilmente Non riusciremo ad andare in caverna oggi Però mi crafto comunque Un piccone Perché abbiamo il legno necessario E magari effettivamente La prossima volta Magari in live Effettivamente se ci giochiamo Riusciamo ad andare in grotta Ok ho sempre fame Ho capito raga Che questi mini lego Mangiano non so come cosa Perché veramente Gli ho dato da mangiare adesso E già ho fame di nuovo Ok dammi altra carne Dammi altra carne Perché se no Io veramente rischio di morire di fame Subito nel mio primo mondo No 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 Vieni qua Vieni qua Piccolo pollo Fatti chillare Oddio ma sta piovendo raga Non ci credo La pioggia su fornit Mai vista Veramente una cosa Assurda Mai vista la pioggia su fornit Ed è pure molto molto figo Ok ho appena scoperto che possiamo mettere delle cose nella mano secondaria Tipo ad esempio il cibo E ok ho freddo No 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 Non voglio morire di freddo Stiamo vicino al falò E guardate È diventato tutto buio Non vediamo più niente Ok ho appena scoperto che dall'inventario Nella sezione Parti da costruzione Possiamo andare a costruire letteralmente Con i mattoncini lego Una casa ragazzi E voglio provare a farlo insieme a voi Vediamo se mi riesce Ok non è facilissimo raga Effettivamente Devo prenderci un po' la mano Ma come verete costa un pezzetto di legno E posso costruire una casa ragazzi Questa cosa è rivoluzionaria È assurda Però forse sarebbe meglio fare un capanno semplice In effetti costa soltanto 6 di legno E mi dà probabilmente un po' di riparo Quindi andiamo a prendere un attimo la legna E costruiamo il nostro primo riparo Ok la vera domanda raga è quanto cavolo dura la notte È tipo mezz'ora che sto aspettando per andare a prendere il legno Ma tipo la notte è infinita Vediamo se posso tipo rompere questo blocco Se mi rida il legno Rega vediamo un po' Ci proviamo raga Vediamo un po' se mi dà il legno Non si può neanche rompere Cosa? No 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 aspetta L'ho piazzato io cavolo Vorrei anche romperlo No non si rompe più raga What? No no questa cosa è stranissima Ah ok Se gli do tipo le manate si rompe Ok ok Questa cosa effettivamente non ha molto senso Però abbiamo recuperato il legno Prendiamoci tutto quanto raga E andiamo a costruire il nostro primo rifugio Perfetto legno preso Andiamo a costruire ragazzi un capanno E lo mettiamo esattamente in questa zona Vediamo se posso tipo girarlo in qualche modo Ok non si può credo Non ho idea di come cavolo si faccia Ok perfetto L'abbiamo costruito esattamente in questo punto Adesso non ho idea Ah ho capito raga Praticamente abbiamo messo la base Adesso per costruire il resto ci serve ovviamente altro legno Beh effettivamente ha senso come cosa Anche perché se no era troppo Per sei di legno Ti dammo una casa già fatta Effettivamente è un po' troppo E noto che sta sorgendo l'alba No raga ma guardate Laggiù c'è un biome innevato da esplorare No 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 che figata raga Troppo per un video Troppo per un video Quindi adesso raga direi che vi saluto E noi probabilmente ci vediamo in live A provare questa modalità insieme Raga fatemi sapere nei commenti Se volete che ci porto una live Perché questa è ufficialmente la rivoluzione di Fortnite È ufficialmente Fortnite 2.0 In tutti i sensi È una figata Ho fatto pure un livello raga Vabbè comunque a parte questo Noi ci vediamo in un prossimo video Ci possono addirittura shoppare le skin di Lego Fortnite Vabbè mi raccomando Coricenaxe con DX non lo shop E noi ci vediamo nel prossimo video Bella ragazzuoli